L'Unione Europea accusa Google di abuso di posizione dominante per aver costretto i produttori di cellulari Android a promuovere altri suoi servizi. La Commissione ha formalizzato le accuse contro il colosso del web per le restrizioni imposte a produttori di smartphone e tablet e agli operatori di telefonia mobile obbligati a preinstallare sue app come Google Search. L'antitrust di Bruxelles punta il dito contro la strategia di Google volta a conservare e rafforzare il suo dominio nel campo della ricerca Internet in violazione delle norme europee. L'eventuale sanzione potrebbe essere pari al 10% del volume d'affari mondiale del gruppo e superare quindi 6 miliardi di euro.